Salve, benvenuta e benvenuta al Salotto di Chiara. Oggi dal Conservatorio di Santa Cecilia, musiche di violino tra classico e profano. Il violino è uno strumento più che altro sentimentale, destinato al genere classico, anche se è sempre stato presente nella tradizione folkloristica di molte nazioni. Nel programma di oggi sono presentate musiche dal repertorio classico prima e poi dal repertorio profano, tra cui Meditazione di Erika Zoe, artista contemporanea. Dal repertorio classico, tra le altre, sono presentate di Kabbaleski il concerto in do maggiore, opera 48. Kabbaleski è un compositore e scrittore russo del Novecento, pianista e violinista, le cui composizioni sono ricche di effetti brillanti e sono anche di facile ascolto. Tra le altre, è stata presentata Prokofiev la sonata, opera 94, che racchiude la freschezza di inventiva unita ad un vivace senso dell'umorismo. E lo scherzo è una tra le sue opere più ammirate, grazie alla raffinatezza e l'eleganza della scrittura. Si prosegue poi con Paganini, la cantabile opera 17, per arrivare poi a Monti dell'opera Sardos, che è una composizione tra le più famose delle sue, ed è basata sulla danza popolare e genere musicale ungherese, chiamata appunto la Sardas. Di Sen Sen è stato presentato in introduzione, è un do capriccioso, opera 28, ed è davvero piacevole e frizzante ascoltarla, e presenta delle allusioni stilistiche spagnoleggianti, dato che il motivo richiama il tempo della Banera, che è la danza di origine cubana. E Sen Sen si ispirò al talento del violinista Pablo de Sarasate nella composizione di tale opera. Grazie. 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 Grazie.